Sono le 8 di mattina, siamo a Roma e questa è la strada principale della città, questo è Lungotevere. E guardate un po' la situazione, macchine che camminano a Passo Duomo. Ma perché non c'è macchina? Ma tutte le mattine così? No, no, è sempre peggio. Ma la bicicletta? Le posso chiedere perché prende la macchina invece ad esempio della bicicletta? Perché voglio vivere. Cioè? Perché è pericolosissimo. Ma la bicicletta? La bicicletta? Dopo una settimana muoio, non ce la faccio. Se ci fossero delle piste ciclabili la prenderei. Eppure un'alternativa al traffico ci sarebbe da questa bellissima pista ciclabile tutta lungo il Tevere. Pensate, sono 35 chilometri di pista ciclabile, una delle più grandi della città. Questo sarebbe l'ingresso della pista ciclabile principale di Roma e guardate che schifo. Qui c'è addirittura un frigorifero, i famosi frigoriferi della Raggi. Per la manutenzione di queste piste ciclabili l'anno scorso, nel 2015, sono stati spesi un milione di euro. Allora, qui c'è un passeggino con sopra delle cose e vari rottami. C'è pure un carrello della spesa. Questo sembra un accampamento rom. E qua è privato? No, no, per carità. Siamo qua da dieci anni, siamo tranquilli, non disturbiamo a nessuno. È tutto a posto qua. Posso solo vedere il fiume? No, posso. No, no, solo il fiume voglio vedere. Non voglio... È un macello, guarda. Dice che ci spendono un milione su queste piste. Eh. I due anni che non ci fanno niente. Niente? Niente, niente. Eppure questa potrebbe essere una delle piste più belle d'Italia. Guardi qua. Guardi, io ero un ragazzino che abitava a Roma e i tassi ne esistevano. Eh. La mondezza non si pagava, l'acqua non si pagava, la televisione non si pagava, l'assicurazione della macchina non si pagava. Funzionava tutto. Qui paghi tutto, pure l'aria che respiri. E non funziona niente. E non funziona niente. L'unica cosa che c'è rimasta è la speranza. La speranza. E l'ultimo a morire. Siamo praticamente a metà strada, abbiamo percorso quasi 10 km e questa è la situazione. La pista è ridotta così, ci sono le crepe. Attenzione a rallentare. Pavimentazione sconnessa sul ponte consituito del transito solo con bici a mano. Ecco perché è solo a mano e si stacca nei pezzi di pavimento e qui c'è un chiodo gigante che per le ruote è perfetto. In Italia ogni anno muoiono 352 persone in bicicletta, praticamente uno al giorno. Soltanto a Roma gli incidenti sono 370. Secondo l'Automobile Club Italia ci sono quattro possibilità di morire in bicicletta e solo una in macchina a Roma. Questa è il cavalcavia di Tordiquinto, quindi questo è verso il centro e guardate che schifo c'è qua. C'è un gabinetto là. Qua ci sta un materasso, calcinacci, buste. Qui c'è un altro materasso. Questa è la zona verde intorno alla pista ciclabile. Un ammasso di calcinacci. Guarda che schifezza. Questo è tutto vetro, tutto vetro. Qui c'è un accampamento. Buongiorno, c'è nessuno? C'è nessuno. Questo è il bagno di questa casetta. Vista Tevere. Quindi praticamente voi pedalate nell'immondizia? Eh, lo vedi, con un po' di fantasia pensiamo che sia una pista ciclabile, però in realtà questa è la vita del ciclista romano. Voi avete mai chiamato qualcuno per dirgli guardate che qua c'è immondizia ovunque? Continuo. E che vi dicono? La manutenzione è la prima cosa che noi chiediamo. E che vi dicono? Ci dicono che per ora non ci sono soldi. Cioè, guarda qua che schifo. Incredibile. È una schifo. Lo sai che non l'avevo mai visto? Cucine, scaldabagni, reti per il letto. Cioè, ma perché buttate l'immondizia là che c'è il Tevere poi? Cioè, va a finire tutto nell'acqua del Tevere, scusate. Poi qua c'è la pista ciclabile. Tenetelo lontani dal Tevere almeno. E chi l'ha buttato? Come stai tu? Guarda qua. Questo è un altro insediamento di Roma. Lei che ha viaggiato tanto anche in bicicletta. Ma mi dice qual è la differenza fra Roma e le città europee? Esistono le norme della strada, come qua. Però lì le rispettano e qui no. Quindi è una questione di inciviltà dei romani. Di educazione e di controlli. Ma c'è una macchina, ma è normale? Due ce ne sono addirittura. Ma lei ci può andare con la macchina sulla ciclabile? Ci abbiamo il permesso. Ah, veramente? Il permesso perché questa prima di essere vista ciclabile era un punto che dava accesso a tutta questa parte dei terreni che stanno su tutto che sono privati. pezzi un po', quindi si sono aumentati una ciclabile multiuso, diciamo. Questi avvallamenti sono micidiali, soprattutto per le ruote strette, che fanno così. Ma vedi, uno cade così. Sono tanti, guardate, guardate quante ce ne stanno. Guarda quanti ci sono, uno, due, tre, tutti i dossi avvallamenti. Se uno ha bisogno, cadi, il cellulare si rompe, tu non hai speranza. E allora hanno messo queste telecamere, queste, poi SOS. Cioè questa sarebbe richiesta di soccorso. Proviamo, proviamo a vedere. Vediamo che succede, se io suono. Che succede. Non risponde nessuno, sono disattivate. Qui è successo l'incidente più grave, perché un signore si è fatto una bella passeggiata sulla pista, sono usciti fuori da queste canne, gli hanno dato una bella botta in testa, l'hanno strammurtito, quindi non è morto sul corpo. Cioè mentre andava in bicicletta? Mentre andava in bicicletta e lui è morto dopo un mese. Ho capito. Purtroppo. Siamo in balia di tutti. Lei ha mai perso qualche amico? Ne ho persi tanti. No uno, tanti. Marco, 8 ottobre 2016, morto e ammazzato dalla non curanza, da chi deve tutelare il diritto di vivere e spostarsi in bicicletta. Le canne arrivavano fino a qua. Lui, Porello, non vedeva neanche quei venti metri. Quindi lui è arrivato da questa strada qua, aveva la vista oscurata. Lui veniva tranquillo da qui. È arrivato qui, così, si è trovato... Si è trovato il camion dalla destra e quindi lui ha frenato. Ha frenato così. Si è cappottato. Eh, questo è il camion... È proprio così, è proprio così. È andata proprio così. Eh? Che vuoi fare? È la vita poi così giovane, due figli... Quanti anni aveva? 47 anni. Noi siamo proprio come invisibili. görüşene. Noi. Ciao. 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 Ciao.